e intanto ho fatto una considerazione fra me e cioè come può essere vero che tu abbia visto sette o otto volte che le tue opere erano buone quando ti piacquero ma nella tua visione non ho scoperto l'esistenza di tempi che mi permettessero di capire che vedesti tante volte le tue opere e allora dissi o signore forse che la tua scrittura non dice la verità poiché è espressa da te che sei la verità stessa perché dunque tu mi dici che nella tua visione non esistono tempi mentre in un'altra parte della scrittura mi dici che vedesti giorno per giorno che le tue opere erano buone ed io facendo il calcolo ho scoperto quante volte e tu mi hai risposto tu che sei il mio dio e parli con voce forte e sicura all'orecchio interiore del tuo servo squarciando col grido la mia sordità o uomo certamente le parole che dice la mia scrittura io le dico essa tuttavia parla nel tempo mentre il verbo non è soggetto al tempo dato che con me è eternamente immobile ciò che voi vedete attraverso il mio spirito io lo vedo ciò che voi dite attraverso il mio spirito io lo dico perciò mentre voi vedete queste cose nel tempo io non le vedo nel tempo così come io non le dico nel tempo mentre voi invece parlate nel tempo non le vedo nel tempo così come io non le dico